Un altro sequestro importante direi perché la Polizia di Stato con il reparto autostradale di Battifolle è un reparto che ottiene sempre ottimi risultati. Un altro maxi sequestro di droga lungo l'autosole ad intercettare il Corriere sono stati gli agenti della Polstrada di Battifolle. L'uomo, un 39enne incensurato, trasportava oltre 20 kg di cocaina purissima. Gli agenti hanno fermato un 49enne calabrese incensurato che stava viaggiando in corsia nord all'altezza di Monte San Zavino a bordo di una Peugeot 3008 con targa italiana. L'occhio attento degli agenti si è soffermato sulle viti di fissaggio dei sedili che sembravano essere state svitate e riavvitate di recente. In pratica erano stati ricavati due doppi fondi, un doppio fondo sotto i sedili del conducente, del passeggero, del veicolo quindi occultati bene. Sono stati recuperati 20 panetti di cocaina che corrispondono bene o male a più di 21 kg di stupefacente. La persona che trasportava questo ingente quantitativo di droga è una persona fondamentalmente incensurata o comunque non ha precedenti specifici e nonostante questo ovviamente adesso è in carcere. La droga avrebbe potuto fruttare una somma ingente sul mercato ed era presumibilmente diretta al nord Italia. Ovviamente dipende poi da come viene tagliata, però sicuramente ha un valore superiore ai 3 milioni di euro. Adesso si cercherà di capire se questo maxi sequestro sia collegato o meno con l'altro ingente quantitativo di cocaina in quel caso erano quasi 500 kg intercettati sempre lungo il tratto dell'autosole a novembre. Questo sarà oggetto di indagine ovviamente poi cercheremo di trarre le conclusioni.